Grazie a tutti. La data è abbastanza grande, quella con cui si facevano i ritratti, la data dovrebbe essere al massimo del 1897 forse precedente. La sfida è quella di tentare di utilizzare una macchina di quei tempi per fare una fotografia oggi. Siccome ho appena finito di restaurarla non sono nemmeno sicuro che sia perfettamente a tenuta di luce, quindi è una sfida proprio all'estremo. Non ve la monto più cavalletta così si vede meglio. Così si fa la messa a fuoco, però per vedere meglio bisogna mettersi un po' al buio. Come faceva il canaletto, è giusto? Non è esatto, però aspetta, facciamo così che forse fai il meglio. Ma perché si vede? Ecco, prendi le due manopoline e fai la messa a fuoco. Questi sono i contenitori con dentro materiale sensibile e ogni contenitore ne porta due, prima davanti e prima dietro. Ovviamente se ne trovassi degli altri, ma è molto difficile trovare questi 24x30 che è... Ovviamente è bianco lento. Sì, bianco lento. Non fatevi impressionare. Sì, bianco lento. Sì, bianco lento.